Ci troviamo su uno di quei giochi che a me piacciono da morire, cioè siamo su Overwatch, però non sono da solo, sono sfigato oggi. Oggi non ho un ospite, ho la leggenda, ho l'uomo più forte del mondo su Overwatch, Nabadi. Allora, con me c'è Nabadi, che non saluta, e Dark. Se parlate insieme... Eh, eh, parlate insieme. Allora, ragazzi, io ho un problema, cioè non io in prima persona, ma uno qua dentro ha un problema. Non ha aggiornato il gioco. Per un mese e mezzo, sottolineo un mese e mezzo, quante passi sono uscite in un mese e mezzo. Quando giocavo io uscivo una volta ogni tre mesi. È uscito l'evento. Mannaggia. Giorno 10 è uscito l'evento. Di 13 giga. Ora, spiegatemi. Persona X che gioca a Overwatch sa che in quei giorni ci sono gli eventi. Dark no. No, io no. Ah, non è che devi scaricare. No, non l'ho scaricato. Tantomeno ho aperto il battle.net in sto periodo. Ma la cosa bella è che dobbiamo andare in competitiva. Io con te... Ma no, guarda. Guarda, hai presente quel momento in cui mi muti, qui c'è la live? Non posso mutarti, è questa la cosa divertente. No, ma mi muto da solo ormai, ho trovato un trucco. Hai presente che le cuffie che mi hai consigliato adesso c'è che hai tu nato per me? E beh. Io clicco lì, clicco la tastiera così mi muto. Sento su Discord che è il mio micro. Così non rischio. Maledetto, maledetto. Allora. Non posso non clipare mai che tilt. No, scusami, se tu non clipi non clipa nessuno. No, no, a me è clip, cioè io a costo di fermarmi in mezzo al game, prendo, faccio altav e clip. Faccio fuori. Del genere ti caccio. Però ci non lo fai, in mezzo a un game mi metti in mezzo. Allora, passiamo al game. Comunque ce l'ho quasi fatta, eh. Ce l'hai quasi fatta. Faccio. Un giga, un giga è la mia connessione, un giga. Dovrebbe avrei già finito. Sennò a parte la denuncia a Blizzard, che salutiamo, ciao Blizzard, noi ci siamo, quando vuoi. Cara Blizzard, ogni tanto, cioè io te lo chiedo così, aggiornali questi server. Cara Blizzard che iscritti. E indica una connessione buona, chi può scaricare con la sua connessione. Ma guarda che i server Blizzard sono, secondo me, quindi non ho opinione personale, sono i migliori. Sì, sono i migliori perché non laghi, però per scaricare fan schifo tanto quelli di Steam. Cioè su Steam non posso scaricare con la mia connessione al completo. Con un quarto della mia è bellissimo. Ovviamente io su Steam scarico anche a più di quanto dovrei. Io non posso scaricare al mio massimo. Non me lo fa fare. Mi blocca a 500 e va. Dopo 500 non mi fa salire. Vabbè, conta che il download solitamente dipende dall'upload che c'hai. Eh, c'ho 200. Non scaricherai mai a 200 mega su Steam. Ma mai. Vabbè, 200 mega no. Cioè io faccio parte dei Fortunelli che riesce a scaricare a 21. Considerando che ho 20 di upload però. No, non farò 200 ma sui 500 li piglio anche. Ci metto anche in bocca a scaricare il mio video. Due secondi a fare. Ma allora, signor Dark, si sbriga? Sì, è 500, dai. 500 mega, dai. Stiamo aspettando tutti lì. Sì, tutti in alto. Io direi di avviare immediatamente una competitiva senza... No, che poi durano 50.000. Io con me. Allora ragazzi, per riscaldamento ci... Guarda che pensa a scrivere in chat invece di scaricare. No, sto scaricando. Ci facciamo un PvE in estrema. Ovviamente con i personaggi tutti belli sexy. E poi passiamo alle competitive. Dark. 400. 200. Dai, 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 dai. Hai mai provato a fare una personalizzata a una figura intanto che mi aspetti? Io penso che il tempo che io sto settando la 1v1, tu hai finito. Cioè, almeno ci spero. Proprio per quello, lo sto dicendo. E quindi diventa un lavoro inutile. No, no, ma perché così la tieni per dopo. Perché io una 1v1 contro di te la voglio per rivendicare il mio onore e la mia gloria. Non la faremo mai in live. Questo è bello. No. Poi la facciamo io e te la 1v1. Va bene. 1v1. Io e te, inteso, io e Marcello. Ah, ok, va bene, naturalmente. Io e no buddy. Io commento, io voglio fare, ho deciso. Io voglio diventare uno che fa le telecronache, fa la telecronaca. Un caster. Parlando così, no, non ti dirai mai però. Cioè, vuoi diventare un caster? Bella sciacca, come stai? Tutto bene? Che mi racconti il bellissimo. Ok, ci sono. Non di bello, di bellissimo. Di top, ho bisogno di bello. La bottiglia è lontana. Lo sai che forse ho perso... A notte giro. A carter, di scrivere... A belli. A belli, de notte. De notte, una splendide. Sto entrando. Ricerca server in corso. Serio? Ora? Intanto che arriva, noi intanto ci meniamo male. Accessi ancora. Guarda, senza mani. Termina il 30 aprile. Puro senza mani? No, no, no. Sei proprio sicuro? No, 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 non ho preso Moira, tranquillo. Che schifo, non lo farei mai. Apro il forziere, siamo sicuri? Sbrigati che noi stiamo facendo la 1v1 intanto. Eh, ci sono. Leggendaria! Non ci credo, bellissimi. Ya, ya. Ok, ci sono. Dopo che ho trovato una leggendaria posso... Posso anche... È al primo che semena. Vai, ci sto, ci sto. Ciao. Joino. Di chi ti invito la sua... Cazzo, 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 ho sbagliato tutto nella mia vita. In fitta. Ho sbagliato io a trasferirmi, mi aspettavo altro. La prossima volta ci sarò anch'io. Manchia, sì, dai, cavolo, ci sta. Selezioni. Quando vuoi, iniziamo qui. Buon lavoro. Io posso sospettare. Io non sapevo se... Voglio vedere che prendi ora. Voglio vedere che cosa prendi. In realtà ho instapiccato. Io lo so chi prendete. No, sai quelli che prendo io, non sai quello che prende lui. No, no, tutti e due, tutti e due. La body. Ves, la body. Vada, vada. Io aspetto. Lo sai qual è il problema? È che se... Comunque fa schifo la modalità spettatore, insomma, in sto gioco. Cazzo l'ho mancato. Altami. Tutti concentrati in silenzio. Non conosco l'abilità dei due, ma sono bravi tutti e due. No, Marcello è più bravo di me. Purtroppo. Ma è caduto? Ah, non è caduto. Vabbè. Ups. Cavolo. Il mio problema è che non ho le mani. Cioè, non ce le ho proprio. Va bene, Marcello, ho capito, sei bravo te. Vai. Seguo da si mette i documenti. Brava. Ho già ch... Vabbè. Sto prendendo un Widow. Questa è già da clippare con... Vaffanculo, Arci. No, 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 ma lo so che lui è molto più bravo di me. Non c'è bisogno che lo dimostro in live. Non devi trovare scusa. In realtà, Faggio è molto più tattico di me, solo che sono più bravo a ammirare. Non ho le mani. Aspetta, stavo giocando pure con i DPI sbagliati. Full. Non c'è chi prendere. Aspetta, voglio provare la nuova skin, quindi prendo chi non so usare. Dove? Talon. Io spero che tu non abbia preso una di quelle stronzate... No, fidati. Fidati. Cambia Instant. No, dai, voglio provare, voglio dire come la skin. Cioè, se tu vuoi morire Instant, è la fine. Va bene questo. Reaper va bene. Allora, Genji non è uno dei miei personaggi, prima di tutto. Cioè, io gioco o Reinhardt o Soldato. Soldato 76. Cioè, gioco solo per due. O chi ha anche altra roba. Eh, vabbè, Torbion. Questa è competitiva? È peggio delle competitive, questo. No, ma io sono scarso. Cioè, proprio io non c'ho le mani. Me l'ha montata il contrario. Cioè, quando sono nato l'impresa, me l'ha messa il contrario. Siamo in estrema, ragazzia. Non è facile. Non c'è neanche come si gioca io. Non sa neanche di cosa si tratta, in realtà. Sì, anche, ma va tralasciando. Destra. Io sparo. Non andare avanti, non andare avanti. Aspetta. Sono troppo forte. Sinistra. Troppo forte. Io già sto a morire. Cacchio. Ma io posso fare anche quello. No, vabbè, ma io li shot, ma... Quante sono gli scorsi. Sì, ora li shot. Ne parliamo dopo, va. Sì, ma no... Sai che arrivano dall'alto? Non ne sono sicuro. Io li metto dietro al muro, non mi vedono. Sì, ti vedono, ti vedono. Sono bot. Ah, ma c'è ancora uno vivo. E che l'aveva visto? Ma quanto è bello river che butta giù le... Orca le mani. Io li ho persi. Mi stanno totalmente ignorando per pensare a Marcello. No, c'è, ma... Allora, parte. Eccoli, vado. Mamma, quanto sono forti. Quanto so forti. Ah, non è che te la puoi vantare contro i botte, scusami. Quanto so... Eh, proprio perché sono contro i botte stoncare. Hai più soddisfazione, se ci pensi. Se noti, ho preso lo... No, vabbè, però ora fate un po' di danno, non mi ci metto. Aspetta, questa è solo la prima area. Ho visto. Pam! Ah, la zainata sta curando... Stà curando un sacco, per fortuna. Sì, la zainata è veramente bravo. Solo da voi. E' bellissimo. E' un bellissimo personaggio. Che cazzo è? Ma cos'è questo? Assassino, assassino su di me. Ah, la ho presa io. Ma quante sono forti. Vai, Dark, vai avanti. Sì, da qui in poi vai avanti tu. No, solo se non vado avanti. Di certo non può andare Widow, non può andare zainata. Vabbè, va davanti perché sono più forte. Ma dovrò... No, no, ma dovrò... Ma dovrò... Vabbè, uomo. Tu fai male, però. Fatti chiare me c'è lunga, però tu fai male. Ma sì, però stai facendo panico. Io non vorrei dire... Le sto smirciando tante. Assassino parte 2. Dov'è, dov'è? Eh, vabbè. Ho una... Ho tanta di quella voglia di tirare una ulti così. Eh, aspetta prima di tirare ulti. Eh, voglio aspettare che sono in tante, no? Non c'è giusto. Ma dai, fallo un passino più avanti, tu pure. Tu conta che io uno già l'ho tirato, eh? Ma io non ho ancora le... Eh, già si tira... Tira la te tre. Quella di Widow si spreca, proprio. Come ultime. Qual è la ulti di Widow? Mi ricordo. Eh, lei... Eh... Come cazzo si chiama? Il Wallach. Cioè, vedi attraverso le pareti. C'è Kino. Ah, lo vedo. Che è morto? Cavolo, 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 cavolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh, contate che sto giocando molto male perché non sto sfruttando bene il tappetino. Perché lo sento strano. A me arriva bene qui. Quello nuovo. Quello sordino. Madonna, ti ho dato una scrafagnata dove morire in mo'. Hai ultato, Marcello? Come si vede che hai ultato? Cecchino. Ma c'è, il cecchino è tutto tuo, eh. Lo devo vedere, però. Eh, balcora. No, dai. Non ci credo per due secondi. Bella. Cretino. Hai visto la zainata? Non hai visto me? No, ma sei scherchino. Oh, qui c'è di nuovo l'assassino, se non sbaglio. Questa è la mira più stabile dell'ultima volta. Cavolo, che male. Eh, te pareva che non pigliava me. No. Eh, a me ha preso. Allora, il prossimo passo lo facciamo fare tutto a Reaper. No, no, ragazzi, no. Cioè, io sono di Talon, ma questi sono anche miei compagni, ma non mi aiuto. Insanio. Ah, ma di certo non vado in prima linea, anche se sono un soldato. Ma io sì. Oh, sono quello che fa più danni, perciò di dire... Guarda che Widowmaker è quella che fa più danni. Sì, nel senso che sono... Eh, grazie. Vai, vai, vai avanti. Però faccio danni ai tank. No, vabbè, vabbè, vabbè. No, vabbè, vabbè. Cazzo. Vengo, vengo, vengo. Oh, no, geniata. Intervenite o mi lasciate morire? Boh, vedi tu, io sto morendo. Meno male che sta zenata che mi ama. Rip zenata. Rip. Ma questo può spawn sacca di danni. Davvero? Non ce ne siamo accorti. Ma l'ismos... Simos. Oh, isimos. Scusas. Ah, ho sbollato. E ora che ci siamo riscaldati possiamo andare in competitiva. Oh, shit. In questo momento. No. Le perderemo tutte. Sai che si diceva tutte? Vado a far perdere 10 di piazzamento. Vorrei anche vincere. Queste sono le 10 di piazzamento. Anche per te? Ebbè. Scusa, tu che neanche hai finito. Sennò non ti invitavo a perdere. Io ho finito sempre Silver. Io non so neanche... Io come ho finito io non lo so. Tu non hai neanche iniziato secondo me. No, no, le ho fatte le 10 di piazzamento, poi abbandonato. Io dubito. Mi ricordo di averle finito e poi abbandonato. Ed era la stagione 7. Bene, ci troviamo alla 9. Direi che... Dark, devi giocare. Abbandona i giochi brutti. Vieni su Overwatch. Io me la c'è già più in compagnia. Se gioco solo, no. Ti preferisco andare a farmi una fortità l'olse. Devo giocare solo. Ah no, cavolo. Però l'olio non è l'olio bruttissimo. Oh, Eurotrack, anzi. Mi metterei anche a giocare ad Eurotrack. Devo giocare solo. Eurotrack domani. Che per quel voto mi hai fatto riprendere il gioco. E' riuscito dalla morsa di Eurotrack. E' entrato qui in quella di log. Ora sono dentro di 6 giro. Dicono che le competitive si trovano velocemente qui. Sì, sì. Ho avuto il tempo di guardarmi tutta l'highlight intanto. Sì, potrei mettermi a vederla tu l'highlight intanto. Comunque mi sa che quel tizio... Gli stavo per scrivere in privato. Non lo devo fare mai e poi mai. Ehi, sto competitiva. Se ne va Dark, prova. Easy. Non se ne va Dark. Io ho fatto il tab. 20 minuti fa l'ho fatto. E' competitiva. Devo essere il migliore che se lo sale. Competitiva, devi essere il migliore. Pare. Ma è già iniziata? Ma che significa sta roba? No, non posso. A me non mi fa piccare. Ma vediamo che piccano gli altri. Sì, non mi ricordo. Questa è la mappa... Ok, quella del castello. No. Questa è una piazza. Eh, che tipo intorno ci sono le mura, no? Una roba del genere. Mi ricordo la mappa. Tutti di PS. Ma chi è quella lì? Ah, questa è la figlia. Ok, non la ricordo. La figlia di... Di Torbietto. Di Torbjorn? Uh-huh. Torbjorn. Brigitte. Io credo fosse la figlia di... No, aspetta. Che stai tirando? Che avevi messo? Non è la figlia di Reynard. Eh, no. Però devi scegliere. Eh, peccato fara. Però vada bene. Ma in questa mappa... No, in questa mappa andava bene assombre, mi ricordo. Sì. Ok. Abbiamo un altro Reynard. Che è qui. Cazzo... Sono stupido. Ho preso il cadavere di Zegnatta. Sì, cavolo che posso dire, scemo. Buono, sono solo contro? No, no, ci sono anch'io. Quindi sei solo contro? Ok, ho ucciso uno. No, fuck. Morto. Ah, c'hanno pure la cura dietro. Che pitta. Una kill però la prendo. Fonna, che mattanza che hanno fatto. Vabbè, noi in questa modalità abbiamo sempre fatto schifo. Ma ormai io la ho avuto in questa modalità, quella delle eliminazioni di Megadron. Eh, sì, eh. Chi prendo? Sombra? Sombra? Ma la rischio. Sicuro? Spora qui? Sì. Non lo so, sai. Quando la giocavo qui dentro era abbastanza buona. Poi bo... Eh, ma non ci sono... No, bugia. Sai che non ho visto se ci sono le cure? No, ci sono. Sono dentro... Ho due difficili. Eh, ma è difficile che tu riesca ad hackerare. Prokero gli altri. Proviamola. Io me la rischio con Sombra, ci sono me meglio. Non è così male. Preso. Preso. Sono andati dall'alte. Sono andati avanti. Niente. Dai, uno ve l'ha hackerato. Ho ucciso qualcuno. Dunfist dietro. Dunfist dietro. Dai. Non la vedo. Dunfist non la vedo. Farah non la vedo. Farah non la vedo. Oh, ho ucciso. Buono. Ah, Farah, mamma. Ok. Mi tocca hackerare Farah. Se ci esci, sì. Manca solo Farah, no? Sì, manca solo Farah. Perfetto. GG. Lo sta cadendo, lo sta cadendo fuori, no? Perfetto, GG. Ah, ma quelli che usiamo, quelli dove vinciamo ce li elimino. Hai capito bene. Eh, allora chi usa. Me la gioco di main. Cioè, è proprio... Tutto la gioco di main. Eh, adesso non... Torbio non lo so più o meno usare. Non so se usare... Ana o più qualcun altro. Vabbè. Riprotek. Riprotek. Iperconfrotek? Buon problema, abbiamo solo un... One tank. One. 3, 2, 1, combattere. Farah i grassi con... Vabbè, quanto... No, perché Orisa? Perché Orisa? Perché Orisa sei stupida? Ah, ce l'ho ancora Farah. Vabbè, sì, l'avrei presa anch'io. Abbiamo un'azzaria. Morto. Dai, vi manca ancora Farah. È morto. Buono. Cavolo. Quindi manca Anaversario? Sì. Vinto. DG. Sono in oro in kill. Perché... Sai chi mi sa che tassi sbagliati? Cappero, no? È mo' chi piglia. Ah, va, McCree. Proviamo con McCree. Beh, la rischio un sacco con Lucio, però, eh. È abbastanza. Però, dai, è forte. Non lo uso... No, non lo uso da tanto. Quindi... A parte che non so questi quanti... Come e quanto si muovono. Sai qual è il problema? Che loro hanno ancora Farah. Ana. Eh, ma Farah. Ci avete... Ci abbiamo McCree e Bastion. Ufa. Match point. Match point. Lo abbiamo visto. What? Come sono morti? Come sono morti? Vieni. Ok. Avete ucciso Farah. Ufa. Ufa. Ufa, questo non si è buttato. Ufa. Questa l'ha vista. È di uscita. Dov'è andato? Oh, GG. Sono tornato. Abbiamo vinto. GG. GG. È stato divertente, dai. Pensavo molto peggio. Tre di loro hanno quittato. Ma sono l'unico che mi scrive di essere in un'area di partenza per poter cambiare le loro. Eh, giustamente, Faggio. Faggio farà. Strano. Guarda, mentre sono morto io. Mamma mia. Guarda qua che cazzo ha fatto Azaria. Dai, è stato bellissimo redshot contro Azaria. Oh, per una volta che Torbio non riesce a fare due kill senza la torretta. Cioè, solitamente... Ciao, Gemini. Gemini, se ti vuoi unire siamo su Discord. Stiamo andando di competitive malvagie. Ovviamente, se ci vuoi essere. Ho fatto la maggior parte delle... Ah, già, cavolo. Che qua adesso ti danno i punti competitivi. Cosa sono i punti competitivi? Sono questi punti viola che ti permettono di acquistare un'arma d'oro. Ogni 3.000 puoi comprare un'arma d'oro. Ah, ok. Dovo. Mentre se arriva a 6.000? Se arrivi a 6.000 è il massimo che puoi fare. Ah, cioè... Ah, ok. Quindi c'ho l'... No, boh, credevo che tipo a 6.000 ti davano qualcosa. Che ne so. No, ti danno una ceppa di... Ma in teoria hai anche due skin d'oro, quindi... Eh, mica, hai detto... No, hai detto che sia un po'. Cioè, nel senso... Ti danno due skin d'oro. Hai detto Penny. Visto che tu non hai fatto questa modalità intanto che arriva Gemini ce la facciamo in normale. Così ti vedi... Ah, non è la mia quella di prima. Ti vedi la storia e ti... Blackwatch. A me lo so già la storia dell'Overwatch. Me lo so letto o no? Sei zitto. Me lo so già letto. Un attacco a una struttura di Overwatch. Ma questa notte. La squadra doveva reagire. Ma ufficialmente... ...aveva le mani legate. Per fortuna... Blackwatch non conosce regole. Sapevamo tutti chi era il responsabile. E girava voce che fosse ben protetto. La nostra missione era fargli visita e prelevarlo per poi sbatterlo al fresco. Almeno, in teoria, doveva andare così. Buonasera, comandante Reyes. Se l'immagine ai titoli dei notiziari, Overwatch sequestra illegalmente un rispettato imprenditore. Anche se mi arrestate, uscirò nel giro di una settimana grazie ai miei amici. Ma chi è quello lì? È nuovo? È il capo di talo. No, non... Non Reaper, è il tizio. Quello ricco. No, con... Ah, con il capo di talo. Hai ragione. Desosito. Reyes, che tiavolo hai fatto? Non era questo il piano? Beh, allora passiamo al piano B. Ah, questi sono già i disguidi tra Reaper e McCree. Reaper è il team Overwatch. No, è anche McCree. A te la scelta, io scelgo quello che ti manca. Fantastico, mi fate giocare sempre in mano. Ho sbagliato per il tuo ganci. No. Tu, lei? Sì, voglio riprendere. Che ritardo. Ho cliccato il primo random, vi ricordo il ritardo. Preferivo ripar di gran lunga. Ma mi ha rubato la R, sto... Ciao. Ma questo pezzo di fregno. Rimanete qua. C'è uno di là? Dov'è che stanno? Dovrebbero uscire da sinistra. Gemini? Che cattiveria, Gemini? Sì? No? No, non è su Discord, se c'è. Cioè, è stato capace di andare sul TS. No, c'è solo il TS. L'avrei sentito. Vuol dire che non sono l'unico che tiene il TS Discord aperto. Assolutamente no. L'S tu? Ma nel senso che io parlo proprio contemporaneamente. eh beh, è giusto, è giusto. Siamo progressi in quella volta. Vieni su Overwatch. Non potrebbe andar meglio. Io so la grande. Che scrive che volete. Oh, ciao. Bella beat. Siamo io, Dark e Gemini. Quindi, c'è un nabbo tra di noi. Dark. Ridi? Ma è come quel Reaper perché ha sprecato la ultima. E indovina chi è il Reaper? Non lo sarei io. Non è Dark. Il nome è Blue, non è verde. Non è del vostro team. Sarà guida. Vado, vado. Oggi mi sono sbagliato di se cazzo giovedì. Io purtroppo non ho Overwatch. Come non ho Overwatch? Due secondi. Widowmaker. Più o meno, attenzione che se ti piglia ti fa un porco. Buon in generale. Che soddisfazione o c'era quel cecchino? Io non mi devo far piacere Genji o quello che è. Genji qui è bellissimo. Io non lo voglio imparare. Vuoi? Perché equivale a un champ bruttissimo di League of Legends. Non puoi mettere a paragone. No, ma proprio lui i player che giocano i Genji sono uguali ai player che giocano un champ su LOL quindi io mi sono promesso che non lo farò. Ma a parte quello Genji è un bellissimo personaggio. Sì, sì, a parte quello è vero. Scegliato mezza città. Però da caso ve lo proprio stacca quel campione e lo vedo. Magari la prossima volta scegliamo un piano meno su C. Ciao Cristina, ma quanto piccolo. Devo ingrandire la mia chat altrimenti non riesco a leggerli. Che panico! Aspetta, 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 questi fanno malissimo, ragazzi. Eccomi. Ciao Gemini, quanto sei bello. Bello, sono. Sono sexy, bello, eh? Eh no, non esageriamo, eh? C'è poco alla volta. Che è questo? Che è questo? Assassino. Non mi ricorda la mia volontà. Vedi? Beh. Ma no, perché ho il toto adesso questo? Perché ritardo, però non tanto mi muto perché c'è mia nipote in giro. Tranquillo, mister Yuri. Ciao! Come stai, cara? Tutto bene? Dicevo, Paggio, è mia nipote, mi ha trovato l'altro giorno affatto, mi ha trovato i vari animali, mi fa il gatto, mi fa il cane. Poi c'è la tassuga, come fa la tassuga? Giustamente la tassuga non ha un verso. E poco prima mia sorella gli aveva fatto tipo linguaggio, tipo le lucette, no? E ora si impara da fare così quando dici come fa la tattaruga. Che tene. Quell'unica pesante non è più. Non lo balli morto. Salvato. Salvato il soldato. Vabbè, stiamo giocando a normale perché Dark non l'aveva mai giocato. Perché è nabolo. Non ha preso il gioco da due mesi. Vedi? E chi è giocare a LOL? Gioca over. Sì, Bit, siamo su Discord, vuoi venire? Basta che non fai cacciare come sempre, non fare il terrone. What? Sai che non me la posso spiegare? Cosa? È un trigger per me. Per Ron è, per lui è un trigger. Che? Sei mi attivi, tra te attivi il mio anno... Ah, tu sei un po' lentone, quindi... Nel senso che è va lentissimo, è un po' lentone. Sia mentalmente che fisicamente. Ma scemo! Chi è Gange? Gange è Dark. Oddio. E di chi è scarto, dai, di. Che non c'hanno ancora Infatti sono più le volte che smirci che quelle in quei pi. Comunque. È addirittura Felice. Chi è Felice? È Cristina. Ah, sì, perché... Vabbè, sono fatti suoi chiacchiati. Devo andare a... Vabbè, vabbè, vabbè. Proviniamo alla cena a tutti, ragazzi, rompendo tutti i bicchieri. No, io non puoi le sedie. No, tranquillo, tu rompi altro. Comunque McCree aveva un piano. Però non sa suonarlo ancora. Che è forte, eh? No, McCree lo sa suonare il piano, sai, che è guidato da Nobadi. Ah, va, già, 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 già. Eh, fregato. Eh, io... Io stanco. Avete lasciato Nobadi da solo? Non è mai solo quando è solo. Ah, ok. Usi la E per favore ogni tanto. Io lo dico per te. La E, non la shift. Sì, la usate. Poi vi è stati blindato. C'è Kino, c'è Kino, c'è Kino, non c'è più. C'è Kino. C'è chi sì e c'è Kino. Ricordati che con Genji la mossa speciale è quella di richiedere costantemente healing. Sì, devi richiedere costantemente healing con Genji. credo lui sappia il meme di Genji. Dubito, però è una cosa vera. Sì. Perché devi sapere che chiunque usa Genji spesso e volentieri a livelli bassi lo usa in una maniera che si butta a capofitto in mezzo ai nemici prendendo danno. Esattamente Genji è da medio raggio non ha... Naturalmente tank. Esatto. Sì, come farebbe un tank. Genji è di flancare per andare alle spalle colpire e fuggire puntare a chi sta da solo ma sono tutti in mezzo alla mischia. Il problema è che poi richiedono healing giustamente. Non è che tornano indietro dall'healer. Si rimangono lì in mezzo. Allora... Non sono mai il tatto anid healing. Siamo in pochissimi oggi. Siamo io, Dark, Gemini e Nabadi. oggi siamo siamo al completo ed è bellissimo. Vieni qua Marce che ti curo tutto. È stato bellissimo. In estremma l'abbiamo completata full healer, no? Full support, vero? Se non sbaglio sì. Sì, 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 sì. C'era pure Badeo. Ma non con Marcello. Non c'era Marcello. No, c'era pure Marcello. No, full healer no. Sì. In full tank non c'era Marcello. Pensate al cecchino. In full tank non c'era Marcello. Lui è double. Deca di stare sempre nel raggio della ultima di Moira quando vai in uno. Scemo? Andiamo, 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 andiamo. Andiamo su, andiamo su. Peccato che non c'è il rosso. Guarda, a me sarebbe stato piacevole se fossimo stati tutti i streamer. Se ci fosse stato anche Bit o o Fella. No, Bit, no, Bit f***a. Dark, Dark, torna, Dark, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Vai sulla navetta, vai sulla nave. No, va bene, non la sapevo sta cosa. No, perché il tira di... Sai quante volte la si perde? Perché è vero, faggio? Mamma mia, quante volte l'abbiamo persa il cazzo di cane. E se ti siedi quando la navetta parte il bersaglio era morto. Si smarmella tutto. Beh, aspetta. Io non me la salta la sera, me la voglio vedere tutta. Ma i nostri problemi non erano finiti. Per la prima volta la gente si era accorta che esistevamo. Facce nuove riempirono il vuoto lasciato in Talon. E io mi chiedo se non è stato proprio là che tutto ha iniziato ad andare a rotoli. Oddio. Eh, questo è uno dei primi punti in cui l'Overwatch ha cominciato a... Il Big Geek è una bella fiera. Te la consiglio. C'è un sacco di gente molto interessante. Quindi sviluppatori, fumettisti e così via. Uh, c'ho due... C'è una grande fiera. Ne vale la pena. Leggendaria? Leggendaria? Seconda di oggi. Geniata. Geniata quale? Eh, mo te lo dico. Epica. Moira, epica. Ho trovato Moira, Palore. Avevo scritto la tipica espressione di Gemini. Ti dico quale Geniatta ha trovato. Dov'è? Geniatta, Geniatta. Crettino? Ecco, Geniatta. Modello. Ha il Frit Geniatta. Bellissima. Il Frit Geniatta. Sì, Cristina l'abbiamo conosciuta all'Ecce Cosplay. È la sorella di Frank. Tano. Stiamo facendo i sei contro sei competitivi che sono sempre per le casse quindi c'è oggi a Moscialla. Ah, ok. Se vinciamo bene sennò vanno... Mi era arrivato un imparto con competitiva. No, no, no. Tanto non non è stagionale. È evento. È stagionata. Forse diventa stagionale, sai? Il deathmatch sei contro sei. No. No, no. Senta. Ma mi senti il Discord? No. Sì. Sì, adesso sì. Parlavo e non mi rispondevate. È perché puzzi. Noi evitiamo la gente che puzza. Sai che skin ho trovato di Reynard? Chi hai trovato di Reynard? Io intanto mi stendo quasi. Reynard Wujing. Quella cinese. Bellissima. Quella cinese. Ma scusami, non potevi prendere quella originale? Me l'ha regalata. Dovevi prendere quella francese? Me l'ha regalata come... Ora voglio usare Zegniatta anche se non lo so usare. Lo lascio giocare. Se devo fare la skin. Guarda che io ho la skin... Ho la skin a pagamento di Lucio. A pagamento? Quella da 5 euro. No. Ah, vabbè, ma non l'hai comprata. Le t'hanno... No, l'ho avuta gratis per fortuna. Io con la pippa che l'avrei presa a pagamento. Io degli... Per me... Per me... Eh, sì, quando c'è stato l'evento hanno dato 8 punti... Ma ogni tanto, perché non mi hanno di tanta me che ci sono su questi eventi? Ma scusami, io ti devo dire che ci sono gli eventi su Overwatch. Infatti, informati. Cioè, vieni su Overwatch, io volo. Eh, vabbè, ma io voglio che giochi, non che voli. Si, hai visto com'è che sei volato su Overwatch? Ah... No, sto mappé bruttissimo. Tine. No, la più divertente, soprattutto con Lucio. Ti riesci a buttare giù è divertente. Ma io l'ho... E' quello l'obiettivo. Però devi avere un Lucio che è un minimo... oh, c'è... Oh, c'è... Oh, c'è... Oh, c'è... Oh, c'è morto. Oh, c'è morto. Potere curativo della musica. Oh, c'è... Io sono discordato. No, ma questo mi fa malissimo. Aia. Oh, c'è... Ehm... Robot dietro. Reaper dietro, l'altro è roba. Ma non c'è anche il loro... Eh, comunque si chiama Diva. Pure? 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 Eh, sono qua! Più di così non posso fare, bro. No, cavolo, sono morto, io sono morto. Reaper, sta per ultare. No. Morto. Mecri. Ah, mecri, mecri. Ana, cure! No, come ti puoi portare solo tre idioti? Fuck. Noooop. No, c'è 17 HP. Ah, ma è finché non... Sono qui. Non prendiamo il punto. Eh, qui, ma vuoi stavate fuori? Io che non capisco. Mi ulti a minca, Ana. Ho ultato a minca. Eh, vabbè, ma avviso allora. Sono morto. Raga, non vi dovete gridare in faccia, però. Mi sono sentito casico all'improvviso. Ho preso la corrente all'improvviso, vabbè. Sì, vabbè, dai. Eh, vabbè. Ho buttato anche Gigi giù. No, che finisce nel posto, ora. Avremmo bisogno di conquistare, ragazzi. Vabbè, 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 vabbè. Falo stare là, falo stare là. Hai visto? E anche per voi. Grazie. Scialà. Scialà. Beh, no, non è detto. Grazie per le cuore. Sulla... Sulla sinistra c'è Ripper. Preso. Viva la ulti. Ragazzi, io la ulti, quindi... Anzi, mi sa che la ulti è morta. Urca, mi hanno buttato giù. E l'uso a bersaglio. Mi ulto tra... Tra cosa a fuoco, eh. E all'uso, all'uso qui da me, all'uso qui da me. Ah, manca... Nessuno per me. No, mi ha buttato giù, non ci posso credere. Scusa, mi due tank. Eh, due healer. Hanno preso junk, a te mi pare. Non capisco. Ah, c'è un healer che non posso prendere. Ho switchato i merci. Io muoio. Dark, è il tuo rischio. Ulti in mezzo. No, vabbè. Ci hanno visto? Dimmi che ti busto. Vai, vai, vai. Beh, ma non ti ho sottotto. Ma nessuno, non ci posso credere. Che vuol dire? Ti ho... Ti ho arrestato. Non ci credo, mi buttano giù come un piano. Ma l'ho detto che ho il posto, ecco per me che sta male. Beh, non è detto che ho uccisi al Big Geek, eh. Io sto resistendo, se magari è arrivato non lo so. Eh, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Eh, sono morto. Non ci stiamo coordinando, non stiamo andando nemmeno a cazzo i suoi. Come sempre. Eh, giù. No, comunque facciamo anche poco danno. Mm, per un po' sono stato io oro in kill. Il che non è possibile. Dark, prendi l'healer. Io? Adesso siamo tutti. Merci. Moira, va bene? Moira, se proprio non vuoi usare le mani. Moira, io l'unica che so usare, tra virgolette. Sai utilizzare Ana? Sì, ma c'è Genji che non ha manco lo spray. Cioè, non vorrei dire. Non vuol dire niente. C'è chi non se ne frega niente degli spray. Eh, c'è chi no. Sto io sopra. No, no, Fim, ma compro quei due. Scemo? Lì dietro hai Junkrat. È un po' di cura. Cioè, Junkrat dietro, arrivo dietro. Sono messa la matti. Ah, fa culo. Niente, sono morto. No, vengo a salvarvi. O stare nella casetta là contro Junkrat e... Pensavo a Junkrat o pensavo a tutto il team avversare davanti a me. Un mano della tua squadra ha abbandonato la partita. Eh, bello. Se abbandoni la partita nei prossimi un minuto, su Breno è una sconfitta, una penalità. No. Che cazzata, però. Era meno invasivo tu lo... Al centro e in alto. Ma guarda, non ho capito perché... Perché lui via pure a noi, non capisco. Ah, perché ti fa presente che continui... Grazie. Spero. Cavolo, ho sbagliato. Ah, no, il Winston mi ha scattato. Non riesco a focussarmi su... su nessuno. Su nessuno. Eh, perché stanno... Fa, fa culo! Stanno sempre tutti uniti, stanno. Hello, Red Owl. Gufa Rosso, buonasera. Non sono ancora morto. Io purtroppo sto dimostrando più volte di non avere le mani su Overwatch e che devo riprendere assolutamente. Oh, ti vengo da via. Gianca a tutti. Uh, siamo nel punto, veramente? Sì. Da sopra stanno arrivando le bombette. Vaffanculo, Lucy. Però... C'è Junkrat sopra. Morto, morto. Sì, si stanno vinendo perché di va la ulti. Preparatevi, eh. Non affacciatevi. Ah, non affacciatevi. No, non mi hai partito la... Eh, per qui. Cristina Ravena. No, vabbè, io non so volendo giocare su. Non mi fa questo. No, mai è niente di cambiare ora, quindi... Tanto la partita è finita. Eh, quello è il problema. Io sono Reinhardt soldato. Quindi se giochiamo insieme sarà... Sarà tosta. No, più che altro non è che siamo nabbi noi. Purtroppo... No, è... Purtroppo noi abbiamo avuto un periodo in cui non abbiamo giocato Overwatch e quindi... Ci abbiamo perso completamente la mano. Sto cercando di riprenderlo con la scusa delle live. Boh, c'è chi non l'ha preso in due mesi e ha dovuto scaricare 12 giga nell'ogicolo in questo momento. Ma... Tutta quella... Ma... Ho visto Anac, forse io alla fine no. Grazie, grazie. Gufo rosso sarebbe Stefano? Chi è Stefano? Eh, fatti i cazzi tuoi, scusami. Cioè, se io dico una cosa... Cioè, scusami. Pensavo stessi parlando di beat. Eh no, se no dicevo beat. Scusami. Si chiama Stefano. Sai, ultimamente mi chiami a me Yuri. Voglio di... Che ne so io come ti funziona il cervello. Ah, ma era una competitiva normale. Non era una competitiva... Hai capito ora? Eh sì, l'ho capito ora. Infatti non capivo perché nella 6v6... Perché mi ha... No, mi ha fatto perdere la competizione che è competitiva che volevo far seriamente. Ma tanto tu, Oro, ci gioi da solo, competitive serie non te ne scusami. No. Mi chiamo Matteo. Ok, niente, ho un cazzo per un altro. L'unica competizione che... Ah, tu sei Teo. Ok. Ok, ok. Io ho un coro nero. Vi stavo seguendo nell'ultima live che avete fatto. Eh, io sono faggio. Ah, ma... Che te lo dico a fatto. Quello che è la... La scimmia, lì? Eh sì, perché... Sta anche scritto sotto la... Perché sta scritto. Il tuo faccione. Sta scritto il tuo. Non si vede nella live. Mica c'è l'overlay che ti dice tutto. Scemo. Ah, va. Ho l'overlay... Ho la v3. Ci sono tutti i miei dati. È proprio per quello che... Tu scherzai. Se vedi bene c'è anche la mia data di nascita. Se provo devi cercare... Cambiate spacciatore! Cambiate spacciatore! Dai! No, no, va bene così, va bene così. No woman, no cry, dicevo. Toma, da evo, quanti siete. Siete infiniti. Cry era... Oddio, siamo otto in live e non me l'ha spettato. Eh, perché sto streamando io. Mica stai streamando tu. Eh, eh. Quando streami tu League of Legends... Eh, no, io faccio perdere il follow a 4, lo so. Meno 4. Perché? Beh, lascia perdere. Fanno perdere un follow? Obiettivo meno mille e mi danno la targhetta su Twitch. No, 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 guarda che di perdita di follow... Cioè, abbiamo un gioco preciso che sappiamo che quando andiamo in live con quel gioco perdiamo follow. Proprio preciso. Preciso. E te lo dico in privato, scusami. Ah, io lo so. Esatto, è quello che voglio giocare io. È quello che vuoi giocare tu. Ogni tanto vieni, rompi il cazzo. Eh, giochiamo a... Boom. Ah, lo Strack Simulator. No, intanto... Eurotrack... Io voglio dire che Eurotrack ha portato più follower di League of Legends. Vabbè, ma il LoL è un gioco di schifo, logico. È 100 volte meglio Eurotrack al LoL. Anche una mosca morta è mille volte meglio di LoL. A me League of Legends non dico a che piace, però ha delle meccaniche... Ti sconosco come amico, sappilo. Ha delle meccaniche comunque interessanti. Ti sconosco come amico. Scusami. Però non giocare quando te lo chiedo. No, non gioco perché l'ho già disinstallato. Sono durate due ore. È durato 50 minuti per l'ho disinstallato. Visto che dobbiamo giocare a cazzo, prendo anzi. Voglio farvi vedere la mia skin... Oh, chi è giocato a cazzo? No, no, no. È non mica competitivo. Sì che lo è. No, sì che lo è. Era verde. No, 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 no. È eliminazione competitiva. Ma che palla, voglio giocare a minchia, io non c'ho voglia di giocare a minchia. È gioca a minchia, che te frega. No, no, io voglio giocare a minchia. Tutti rompete palle. Ma guarda che Gemini quando gioca a minchia gioca meglio di quando gioca a sinamente. Ah, io ok. Vallo giocare a minchia. Ok, allora può. Sì, certo. Sì, no, ma Eurotrack è un modo per parlare alla fine. Guarda la mia skin, guarda la mia skin, ma che bella. Sì, chi sei prima di tutto? Soldato, guarda soldato. Ma è bruttissimo. Però se tu fossi stato fisico, che male che avresti subito. Siamo in Thailandia comunque, ragazzi, eh. Non la conosco stavolta. Io sto nella natura. Sì, è nuovissima. L'hanno messa... No, io non l'ho giocata. Non caccia la bandiera. Non l'ho vista. No, ma non l'abbiamo giocata neanche noi, quindi tranquilli. L'ultima vappa nuova che ho vista è quella lì dell'anniversario. Porca troia, mi son dato una schiantata contro Brigitte ed è stato bellissimo. Ho fatto la cazzata che me ne sono andato in mischia contro qualcuno. Eh, vabbè. Cioè, stavano tutti là, me ne sono andato di prepotenza. Per farti capire, ho fatto il giro intorno a me stesso e mi son trovato a morire dietro. Bello. GG easy. Lascio il banchio. Ma respawnate, quando ho morito... No, no, è l'innazione... Se vinci ti toglie il campione che hai usato. Cioè, sì, il campione che ho usato. Mazza quella là! Non so neanche dove sono io, quindi. Complimenti a Pharah che ha fatto una cosa magica. Più magica di me. Vabbè, io devo ancora capire... Dai, Moira, quanto la odio! Deve essere inerfata insieme a tutto il resto della merda che ci suove. No, no, ma vedo che la mira oggi non siamo solo noi. Vabbè, ma io voglio dire che non ci giochiamo a... No, vabbè, ma a parte quello c'è Moira che va nerfatissima. Ma no, è sta mappa che fa schifo, cioè. No, no, è Mo... No, è la mappa. Ma over oggi io l'ho cominciato ad abbandonare, principalmente, perché molti personaggi, purtroppo, mi levano il gusto di giocarci. È molto, madonna. Bimbi, la smettete di parlare male della mappa, del gioco, dei personaggi? Perché non posso esporre un parere sul gioco? Fai ogni volta, Gemini, hai detto, mi cazzo. Basta, basta, basta. Beh, va bene, evito di parlare, allora. Ah, no, cioè, prenditela con Dark, non prendertela con Moira. No, io sto parlando in generale. Non sto dicendo nulla. Una volta che non sto insultando Dark. Eh, no, l'obiettivo di Overwatch... Vedi, l'ha capito pure Marcello che la prima volta che lo senti. Quello devi insultare Dark, vabbè. Healer, please. Vedi, l'ho la prima volta. Io due, non rompere il cazzo. C'è l'healer. Uno, ha detto, healer, please. Ma c'è l'healer. Romi, ne sta uno. Contentati. È uno, ha scritto così. No, ma come, ragazzi, ma come, ma veramente è schifo, cioè, ma veramente è schifo. Pazzo! Lare di così! Io muoio, 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 perché sono stupido. No, vengo a salvarti. Quel cuoco di vita che ti posso dare te lo do. Uuuuuh. Cacchio. Urca, so, per prendere Genji. Eh, vabbè. Scudo giù, scudo giù. Fuck. Che bravo, stu, questi porti, mi piace. Uccisi un doppio. Hai suicidato? Ho fatto una doppia. Un altro paggio? No. Penso che ti fosse suicidato, Rena. Uccisi un doppio. È un'altra doppia, so, quattro, why you? Dai, manca l'ultimo, dai. È un Junker, no? No, è un Luzio. Luzio. Sì, ciao, attenzione agli angoli, ragazzi. Stai nel suo spawn. Vabbè, è stato in mezzo alla zona, così la pigliate voi, nel dubbio. Ci sono io. Stai sulla sinistra. Batonna. Mi è arrivato un mio intesto, un misto. Gimini, controlla Telegram appena poi. Non devo controllare niente. Invece sì. Non sto pensando in Telegram quando faccio altro. Apri Telegram, cazzo. Rompi palle. Ma dall'oscenità? L'healer, che d'accordo giù. Lo prendo io, L'healer. Cosa avevi tu? Senta che devo flammare un secondo. No, non flammare, scemo. Sì, indubbiamente. Se tu lo vuoi giocare seriamente in quel modo, tranquillamente. Ma io sono un coglione. Cioè, io non mi diverto se lo gioco seriamente. Due. Uno. Un bastito. Non perché non sono capace di prenderlo seriamente, anzi. Viva i verdi. Oh, non vuoi vi dire, Faggio, che prende se ovviamente è overworld. Seriamente se ne è ucciso con una bestemmia in life. Veramente? Sì. No, ma... La voglio. La devo saltare. È la compilation, la voglio tutto. Non fissi di merda! Guarda che curo. Dai, vabbè. Pazzo. Ucciso. Eh, sono morto, raga. No, no, nessuno di voi morirà. Morto. Sono morto. Sono vivo. Sono morto. Sono morto. Dico che nessuno di voi morirà. Sono morto, grazie. Vi dico che nessuno di voi morirà. Sono già morto! Sì, dire che nessuno di voi morirà, nessuno di voi morirà. Eh, vabbè. Urca! Uh! Eh, tutto il team, PIL. Boh, io posso in tasca... C'è un po' non è. Faccio se... E' incastrato. Stai che sei rivolto. Stanno impazzendo tutti per uccidermi. Ha girato intorno alla sicurezza. Andiamo a scrivere di nuovo il Affili. Che pizza. È stato divertente. Ammetto che è stato molto divertente. La finale, viga. Dark? Dark? Nerf a questo. Lo sai che mi sono dimenticato alla musica? Cioè, io sto giocando senza la musica. Come sto giocando senza la musica? Sto giocando senza la musica. Ma non è una competitiva. Questa è una... È una patata. Ah, è il... È una polpetta piccante. Assoleta. Un po' di cura. Eh... Due coglioni, però. Non specare tutte, non specare tutte, non specare tutte. Eh, chi deve essere specare? Ce ne cazzo di cure? Ok. Grazie. Eh, non c'è chi vicino a me. Allora, lì. Dove sto? Vieni, vieni. Vieni. Mi hanno sputato addosso e sono morto. Urca. Aiaiaiaiaia. Sì, non... Non dobbiamo andargli addosso, raga. Ci hanno basti, non vedete se li vuoi andare addosso. Curato il resto, madonna. Che spalle. Eh, la vuoi suicidare. Rifer dietro. Abbassatelo. Reinhardt dietro. Reinhardt, non c'era anche Rifer. Ecco. No, McCree. Ma Reinhardt è quello più scemo. Mi hanno addormentato e mi stanno stuprando. Vieni, scaldi. Dovevo sparare io. Vieni tu, stronti. Complimenti. Oh, dai. Sì, diva gattina. Sì. È appena uscita, l'ho presa. Non ci vedo fa nulla. È una delle skin più... Più belle che ci sono in Overwatch. Non posso invitare gente sul gruppo... Su quale? Game player, quale? Sì che lo vogliamo invitare. A parte che sta qui sotto, ragazzi, il gruppo di Game of Thrones. Non ci funziona, Cristina. Non ci funziona. Io non posso invitare nel gruppo. Voglio trovare. Risolviamo instant. Non vi preoccupate. Ragazzi, facciamo un errore misterioso. E poi vediamo come muoverci. Vabbè, ho preso io l'invito. Faccio io, faccio io. Stanno facendo tutti tranne me. Perché io sto aprendo e chiudendo l'applicazione. Come se fosse qualcosa di... Ma perché Discord? Che ti ha detto Discord? Cos'è che vuole? Il gruppo Telegram. Avete presente... Ma tu mo' hai invitato la gente nella live. No! Cioè, ma esattamente qual è il tuo problema? Tanti. No. Avete presente il ban che dovrebbero darvi. A voglia, solo uno. Un mese. Non mi fa invitare lo stesso. Aspetta, aggiungi membro. No, no, no. Vediamo se mi ricordo di come si cambiava l'invito. Dai, raga, sto facendo io. Non vi preoccupate. Tanto lo sapete che mi volete bene. Che mi dovete voler bene per sempre. Da te? Banno. Io banno me messi. Ormai. È automatico. Lo faccio da solo. Addio, Dark. Tante care cose. Ciao. Bye, bye. Alla prossima. Alla prossima. Mai più. Ferma, banno. Ora mi ricordo perché sono stato bannato da un servo. Da più di uno. Dalla vita ti dovrebbero bannare. Ora mi ricordo. Perché facciamo quello che il cervello mi diceva. Non ascoltare. Perché quello ti dicesse qualcosa non faresti se strontata. Forse. Non credo che abbia un cervello così stupido. Io l'ho appena invitata. L'ho inviato il messaggio su Telegram. Bravo. Ovviamente se volete giocare con noi potete partecipare anche in E. Alleluia. Approfitto di quello che ha detto Gemini. Perché mi ha... Mi ha fatto venire un mal di testa incredibile con una sola parola. Che è qualcosa di magico. Che dal 22 al 25 saremo presenti al Valle di Itria Comics and Games. Cazzo c'entra l'alleluia ora con sta cosa. E che cosa c'entra interrompermi quando io sto parlando. E saremo presenti io, Gemini, Kirito, Untold. Quindi se mancate davvero vi perdete una di quelle perle di... Che vi perdete l'anima della festa. Ma ci sono anch'io quello spirito. C'è Dark con lo spirito? Sì, tanto. No, quello per pulire. Perché siccome non può venire fisicamente... Perché è minorato. Minorenne. No. Minorato. Da dove cazzo mi è uscito? Ha deciso di andare in casa di tutti a pulire le postazioni di tutti. Quindi viene con lo spirito. Nei secoli dei secoli, capito? Ci saranno anche Ike e Yalf, è vero Ike. Mi dimentico di Ike, poverino. Che gli vogliamo un sacco bene. Che dovrebbe streamare sul canale. Ecco perché mi dimentico di lui. Perché non streamo. Chi dovrebbe streamare? Chi hai? Come che... Daniele. Ma come? Ma dimmi, chi è Daniele? Ci ho messo un anno a ricordarmi che esiste. Ma cos'è sta cosa? Ma chi è sto ciccione? Ma chi è sto ciccione che ho io? Oh! Mi sento offeso. Ah, ma ce l'hai anche tu. No, vabbè. Allora ti pieghi. Con che? C'è la skin bella o la skin brutta? Mi devi dire solo questo. Con la caccia. C'hai la base. Fa schifo allora. C'hai la base. Non sono un'ambulmica le skin. No, perché ne dovrai avere una. C'è la tipicchio tutto. Ti stacco. C'hai una carie. Aspetta. Che mi spari? Io sono un bel legno levigato, guardami. Quanto sei bello. Aspetta. Ecco, risolto. Volevo sedermi. Guarda quell'imbecille dove sta? Non tu, quello che sta avanti. Ma è morto. Sì, ma io vedo me che le tolgo uno sputo alla volta. Quando la colpisco. E' un metodo per... Nella. Nuffis, è mio. No, l'ho mancato. No, me non ci chiedi. Però vi ho tancato tutto io. Vorrei avere almeno... Ti cambierà sempre le ruole ogni volta che mori. Ma non so chi è tu. Ah, Widom. È Widomaker. Widomaker. Da quando è che tu è stato tu? Non so. Hai artini di nuova. Intanto. Sono l'autistica. Non so neanche chi sia, ma... Ho vari diritti io rispetto a voi in questo momento. Di che natura? Di questa masca. Di questo il tuo... Non lo muoio, muoio. Cos'è che fa la... Se vuoi essere la stalker ufficiale, prego. Nurca, turca, 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 purca, porca, porca. Che turca. No, 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 aspetta. Mi devo curare e poi ulto. No, 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 no. Io sono quello ufficiale. Eficente? Ma dai, guarda che non muore. Ma dai, ma che... Mi è arrivato veramente Torb. L'ho chiamato. Ultimate in faccia a Bastion. Eh, Bastion in torretta, lo sai. La difesa è aumentata. Gemini, non fare il simpaticone. Va bene bullizzare Dark, però... Aia, aia, aia. Aia, aia, aia. Menchia! Penso di aver parato il culo a qualcuno con quella... Cioè, sono morto. Quello mi ha tirato una sberdata dietro la torretta, voglio capir come. Ma... Grazie a loro. Ua, va. Ma che invece della sua abitata si cambia. Da che non me l'hanno visto? E lui no. Dai, quel Bastion. Due ne hanno, non uno. Due? Eh, va bene, va bene. Grazie, speedo. A noi ci sta dando Torbio una manetta. Ma... Tocca se... Riuscissimo a usarli a dolore. Porca... Mignota. Ci sta dando solo healer ora. Bene. Peso. Io non so come l'ho trattenuto. Ma cosa? Cura potenziate. Grazie. Ne stavo tirando una ma forte. Ma hai due... Due i... Di per... Io l'avrei fatto. Sono due Bastion. Eh, vabbè, già. Tenetemi in vita! Eh, niente. Sto... Sto giocando di merda. Sì, ho risa a doppio Bastion. Che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ti puoi dire che sto giocando un po' schifo? Giustezia. Sarebbe stato buono... Ehi, amore dell'oddio! Vabbè, ve l'ho ucciso io, risa. Sarebbe... Sarebbe stato buono... Coglione. Cioè, sono morti entrambi e basta. Hanno... Diva. Io c'ho... Ma hai doppio Lucio? Ma dai. Ho fatto un po' di Jack. Mi prego. Hanno tre Lucio. E anche noi, tra poco. Mi è arrivata... Ah, ma c'è una torretta di Torbion. Ecco perché stiamo prendendo botte a manetta. Eh, vabbè, dai. Dai, dai, ce l'hanno fatto, dai. Eh, vabbè. GG per loro. Sì, la maschina. C'ha il maschino. Non ci credo. Si è preso a lui il danno e non la torretta. Picchia, Dark, picchia! Eh, vabbè. Oh, non so se... Dai, ma perché non mi si mettono a scu... Niente, non ne vinciamo una con Dark, eh. No, tu c'hai la nomina, che non si vince con te. Cioè, a me dispiace. Secondo te lui avrà capito qualcosa di quello che stava accadendo qua? Ma chi? Il che ha fatto la play of the game. Ma va, ma... Girava il mouse... Non so se dove mirava. Ho tirato a run. Grazie, grazie. Comunque devo fare... Devo fare delle modifiche. Ovvero? Nel senso che c'ho il tappetino che cammina. Quindi devo cambiare il tappetino. Mettici l'attacca. Mettici l'attacca e poi mi rovino la scrivania. Che sei pazzo. Va bene, ma non è un problema. Come non è un problema? Stai giù. Dimmi, baby. Hai detto che è il tappetino che cammina, quindi è il tapirulano. Sì. Io, per quanto ho giocato tutta la partita con mia nipota cianfata a me. E a caso al vento abbiamo perso. Oh, si è accoccolata di sempre con me, quindi... Io non lo so. Voglio leggere un attimo. No, tutti e due. Chi sono? Quando inizia la partita. Sono autistico. E non potete dire che non è vero. Chi hai? Simmetra. Cioè, in storia, Simmetra è autistica. Sì, ma se morisse Simmetra come personaggio, la community ne sarebbe felice. Ma può anche come personaggio la togliessero? Io starei malissimo. No, io sarei allegrissimo. Perché è un personaggio di merda. Perché Zarya ha subito danni? Ah, perché è stupida. Orca vacca! Tutti sulla destra stanno. Eh, io ho visto lo scudo e mi sono messo dietro lo scudo. Mica o sapevo che mi lanciavano i migliori sortilegi. Infatti mi stavo chiedendo perché stavo usando Simmetra. Che a me non piace Simmetra. Chiave sta a Merzi. Sto tirando certe sverla. Oh no. No, vabbè, ho tirato certe sverla a Merzi. Ma è a Rodin, che se lo ricorderanno prossimo. Fammi leggere questa accontenza che sono morto. No, no. No! No, Moira. Conquistiamo, conquistiamo. Conquistiamo. Quella diva pensa di giocare contro un bastion che non ha le mani. Cioè, uno di quelli che... Sì, no, no. Sembra che... Sembra che creda che io sia in un unico punto tutto il tempo. Ma io lo farei. Con Bastion? No, Bastion non deve stare in un tempo chiuso. No, no, no. Cioè, con Bastion che devi essere un rompicoglioni. Sopra alimentatore e pronto per il segno di cammino. E poi ho proprio un... Oh, cioè, Stativa cerca sempre di suicidarsi quando perde il mezzo. Meno male. Mi ricordo che dai lati possono arrivare sempre sul punto. Sì, 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 ma... Sono tutti qua, raga. A dove? Sulla destra. Vi ho anche salutato per dirvi dove. Ti dà un piccolo loop. L'ho appena date. Proprio adesso. Ma la fai volare? Ma sei pazzo? Che steccata. Che steccata. Cioè, abbiamo fatto un delirio qua. Qua abbiamo proprio fatto delirio. Ho tirato una steccata di quello. Ma con Reinhardt è così. Devi andare avanti e attaccare. Reinhardt, quando sei in mezzo alla mischia devi fare il cacerone. Dai steccata al random e pigli tutto e tutti. Sì, ma... No, su, stamattina è brutto. No, stamattina per Reinhardt è forte invece. È zona chiusa. Non tu, là. Guarda che al centro per conquistare è chiusa. Quindi devono venire addosso per Reinhardt è perfetto. Se non riusciamo ad andare all'interno io non posso poterlo. No, oddio, puoi dare la spinta con il dash. Quando vuoi, eh, insomma. In realtà noi siamo al cinema, non stavamo giocando a Ovaro. Che suicida. La mette, mi ha salvato. Dai, diciamola tutta alla fine. Povera diva. Povera diva. Povera diva. Dov'è andata? Certe steccate. Hanno due merchi, hanno. Stanno conquistando l'obiettivo. Chi è la mei che mi ha messo il muro? Ha fatto benissimo. Eh no, io stavo per ammazzare una mezza. Senta fermo, servo. No, no, no. It's match. No, non ho pesa l'altro. Torna, 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 Gemini, torna. Torna. Eh, torna cosa? Eh, torna, torna indietro. Eh, torna, sto tornando, se non ho il salto, come torno? Girandoti. Eh, stavo tornando, sai, però è lento, Winston. Torna, 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 torna in catalismo, con una parete. Saluti. Ah, fa... Saluti. No, c'è. No, per l'altro che mi stava piacendo il tuo Reynard. Allo, c'è, ma che ho fatto il livello della mia via. Grazie per la play of the game. È la morte. Peccato, è una binda. Vale la pena combattere per il nostro mondo. C'è chi no. C'è chi sì. Attenzione. E c'è chi no. Ho mai pensato di cliccare là nella mia vita. Guardate qui. No, non lo posso fare questa cosa. Eh, vada, morila. Ma fattiglia. Guarda che non sono l'uso. Guarda che non riesco ad anticipare i colpi con... Tempo di... Vabbè, oddio, morila in sta mappa. Vai, vediamo, Reynard. Chi è il primo che morre? Ho la sensazione che abbiamo vinto. Vabbè, vabbè. L'ha detto. L'ha detto e l'abbiamo vinta. 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 A cosa è addetto? È addetto alla vittoria. No, vabbè, ma... Ladro di Play of the Game. Che scarto, che scarto. L'ho ucciso io in pratica. Guardami, guardami. Che scarto. Ucciso. Io non ho fatto niente. Guarda, ma vorresti dare la kill. Non è possibile. No, state portate. Ma è normale che io non sono mai statista... Statista selettista. Ah, io ho una cassa da aprire. Altro forziere si apre. Tutto trerare. Pa, para, para, pa, para, para, pa. Para, para, pa, para, pa, 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 pa. Zegnatta che fa cosa? Nulla, non ho trovato nulla di bene. Ha Zegnatta che girano le palle, ho trovato. Con questa emote, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto la live fino a qui. Ringrazio Dark. Prego. Ringrazio Gemini. Prego. Prego. Ringrazio Nabadi. Prego. Ringrazio me stesso. Prego. Tutti cattolici, tutti a pregare. Cretino. Preghiamo. Amen. Noi ci vediamo domani con Dark. Che farà? Visto che ci sei tu, di che fai domani, a che ora? Ah, eh, eh, eh. Lago, lago. A che ora? No, che falle. Due. Alle due. Dark, due e mezza. No. Notte. Non lo vogliamo. Fino alle? Tre. Mezza. Ma lo vogliamo. Giochi un'ora? Dalle due alle tre di notte. Dalle due alle tre di notte. Ovviamente stiamo scherzando. Mi sembra logico. Non perdetevi Dark domani dalle due e mezza alle tre e mezza e dalle sei alle sette e mezza ci sarò io con Eurotrack. Quindi sicuramente ci sarà anche Dark, Dark, Dark Dragons. Detto ciò, noi ci vediamo domani. Addio. State ben buoni. Dalle due alle tre di notte.